Convenzione tra la regione Abruzzo e l'ISPRA per il nuovo piano faunistico venatorio regionale. Assessore Dino Pepe, come parte questa iniziativa e soprattutto per un piano che manca dal 92? Una convenzione assolutamente importante e strategica per la gestione della fauna nella nostra regione. Era dal 92 che questo strumento di pianificazione non veniva aggiornato e oggi parte questa grande sfida che durerà 18 mesi insieme a tutto il partenariato del mondo venatorio e agricolo per costituire insieme e redigere insieme questa carta che gestirà la fauna nella nostra regione. Uno strumento fondamentale soprattutto per le tante emergenze che abbiamo, innanzitutto le emergenze cinghiali nella nostra regione. Illustriamo i principali punti delle linee guida della convenzione. Ma saranno revisionate tutte le zone faunistiche, le oasi, una serie di strumenti di pianificazione che insieme agli ATC, insieme ai portatori di interesse redigeremo ma soprattutto grazie alla partecipazione attiva e concreta e professionale dell'ISPRA che è l'istituto prestigioso del Ministero dell'Ambiente.